LUNEDÌ 17 GIUNNO LUNEDÌ 17 GIUNNO E a proposito di politica, l'editoriale oggi a firma di Pasquale Damiani parla della Lega che in Molise è appesa ad un filo. Torniamo a Campobasso, panchina parcheggiata sul corso dai vandali, i neo eletti consiglieri grillini la rimettono a posto, il sindaco, orgoglioso della mia squadra. Guasto al potabilizzatore Basso Molise senza acqua. Se sano, omicidio pecorelli, la procura dispone nuovi accertamenti. Sulla costa buona l'affluenza ma ancora non è pienone. Venafro intitolata un'area a Paolo Verde, carabiniere caduto in servizio. Sport serie D, lupi, per Bovienzo si attende il summit tra Vigorito e Palermo. Calcio giovanile, il Monopoli si aggiudica il trofeo di Corpus Domini. Il quotidiano del Molise, caso cesaride, ci sono i verbali. Dal Ministero della Salute si è giunta all'ASREM la documentazione relativa alla task force inviata dalla Grillo dopo la morte del 47enne di Larino, avvenuta il 19 luglio 2018. Il direttore generale Gennaro Sosto, oggi vaglieremo il carteggio ma non dovrebbero essere emerse criticità del sistema. Incidente nei campi, 70enne muore schiacciato dal trattore, è accaduto incontrato a Calvario a Campobasso, inutili i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118. Molise Acqua e chiude i rubinetti, paesi a secco. Guasto al potabilizzatore, chiuso il flusso idrico, manzo, diritto negato ancora una volta. Omicidio pecorelli, reperti, giunti a Roma. Campobasso, giunta gravina per il bilancio, spunta un nuovo nome. Cultura e sociale, premio San Giorgio per 15 personalità. Isernia, ennesima truffa ad un'anziana, indaga l'arma. Civita Campomarano, il cuore del borgo, è tornato a battere grazie alla quarta edizione dello Street Fest. Sport Campobasso, la società si muove sul mercato per allestire una difesa esperta e di qualità. Eccellenza, settimana decisiva in casa termo, l'instand by la trattativa per Rufini. Promozione, niente iscrizione per la Santeliana, giocatori pronti ad accasarsi altrove. Le testate nazionali, il giornale. Scandalo, magistratura in apertura, giustizia decapitata. Via i vertici del CSM, serve una riforma ma quella grillina è un pericolo per il paese. Bagnai shock, Bruxelles cerca lo scontro con metodo mafioso. Toti non ha più alibi, un sondaggio è all'1%, Forza Italia è il governatore. Lo spazio al centro sono i moderati, il vero antidoto contro i tecnocrati. Politici, attori e rockstar, ecco chi paga l'invasione. I soldi della Germania a Sea-Watch. Beste all'occidentale, cerca di dare fuoco alla figlia. 15enne, arrestato un marocchino a Treviso. Poi la notizia che riguarda lo sport. La signora sposa il sarrismo, Juve senza giacca e cravatta. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore. Il Corriere della Sera, offensiva leghista su tasse, reddito e lavoro a termine. Toghe nel caos lascia il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Renziani all'attacco di Zingaretti e Boschi difende Lotti. Botte e testate a quattro ragazzi. Via le maglie antifasciste per le t-shirt del Cinema America proteste in piazza. 50 milioni al buio, blackout in Argentina e Uruguay. Serie A, due storie che scuotono il mondo del calcio. E quella di Sarri alla Juve e poi quella della Roma che perde Totti, perde il cuore. La Repubblica, i dimenticati del terremoto. Papa Francesco a Camerino. Nessuno si scordi di chi è in difficoltà. Le promesse non svaniscono. Dopo quasi tre anni e tre governi, la ricostruzione non è ancora partita e i paesi stanno morendo. CSM, nuova ondata di intercettazioni, svolta nel sindaco delle toghe. La capitana contro il capitano, trucco tedesco, il biminale tace, migranti e il blocco della Sea-Watch. Hai una maglia antifascista, ragazzi picchiati, aggressione a Roma. Il messaggero quota 100 e reddito stop a Tria. Salvini e Di Maio non accettano i risparmi dal 2020 voluti dal MEF per evitare la procedura UE. Piano leghista smonta il decreto dignità dei 5 Stelle. Meno vincoli per i contratti a termini. Terremoto ANM, ribaltoni al vertice, riforma intercettazioni, il 5 Stelle fanno muro. Palamara coinvolge il caffiero De Rao e lui, millanterie. Schiaffo del Ministero, tre musei romani perdono l'autonomia. La riforma penalizza Appia Antica, Villa Giulia ed Eur e La Lega, salva il Miramare di Trieste. Protesta a Hong Kong, vince lo stop alla Cina, 2 milioni in corteo. Totti, addio alla Roma, arreti, unificate. Il sole, 24 ore. La ricchezza all'estero degli italiani perde 43 miliardi. Gli asset totali indicatori nel 2018 nelle dichiarazioni dei redditi sono calati a 175 miliardi, meno 20% su base annua. Non si ferma il flusso di capitali oltre frontiera. Milano, in testa su Stoccolma, il confronto su vent'anni di eventi sportivi di rilevanza internazionale. Con valtelline e cortine il sistema Italia batte la Svezia, 2,62 a 150 come capacità attrattiva. Scontrini, trasporti e vecchi esoneri evitano l'invio online. Lavoro a termine, causali derogate con i contratti, concorsi pagati i dirigenti e non i dipendenti. Andiamo in chiusura con la gazzetta dello sport. Abbiamo fede, un'Italia casa e chiesa, Bologna lancia l'under, la Spagna è ribaltata. Poi, avanti tutta, Juve scatta la rivoluzione sarrista. Sarri bianconero, i tifosi sbuffano, dovrà convincerli. Agnelli scommette sul cambio di filosofia, contratto 3 anni e 5 milioni e mezzo a stagione. Mercato, intrigo i cardi e Pogba ora apre. Capello e la protesta, anche a me capitò, ma poi vinci io. Il commento e così il ribelle arrivò al governo. Ciao Totti, lo strappo del re di Roma, oggi le verità sull'addio, la società adesso trema. Parla Lottito, Inzaghi, bonus, scudetto. Milan, meglio la Lazio. Milinkovic, via, se lo vuole. Prima di salutarci, vediamo quali sono i programmi che andranno in onda oggi sulla nostra rete. A partire dalle 11, Conto alla rovescia, alle 13, Fuori menu, 13.50, Musa TV, alle 14, il TG, alle 16, Speciale Transumanza, 17.verde, 19.30, TG News, 21, Fuoco incrociato, 23, Ultimo appuntamento dell'informazione. È tutto anche per questa mattina, grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie a tutti.